Coronavirus, giovane di 21 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano. Alla misericordia la prima ambulanza per il trasporto di pazienti Covid-19 tra gli ospedali della Toscana. Inaugurati 30 posti di cure intermedia all'ex RSA di Narnali, integreranno quelli alla Palazzina Ovest. Buongiorno alla nostra redazione, in primo piano ancora l'emergenza coronavirus. Un giovane di 21 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano. Sono 5 i nuovi casi registrati ieri nella nostra provincia. C'è anche un 21enne tra i nuovi casi positivi di coronavirus registrati ieri a Prato. Il giovane ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano. A renderlo noto è l'azienda USLA Toscana Centro. In totale sono 5 i nuovi contagi a Prato e provincia, 10 quelli segnalati dal bollettino della regione, che però considera anche pazienti provenienti da altre province. Oltre al 21enne pratese, anche 3 anziani sono stati portati al Santo Stefano in condizioni gravi. Si tratta di un 85enne di Carmignano, un 83enne e una donna di 89 anni, entrambi di Prato. In condizioni stabili, invece, un anziano pratese di 84 anni. Ricordiamo che ieri si è registrata anche la quindicesima vittima dall'inizio dell'emergenza coronavirus, una donna di 91 anni. Intanto frenano i contagi di Covid-19 in Toscana. Sono 196 nuovi casi positivi segnalati ieri dal bollettino della regione, rispetto ai 290 di lunedì, 13 nuovi decessi, 3 in meno. In Toscana si contano complessivamente 4.608 contagiati, 244 i decessi, 37 finora le guarigioni virali e 101 quelle cliniche. I ricoveri sono 1.413, di cui 293 in terapia intensiva, poco più di 14.000 alle persone in isolamento domiciliare. Il Governo ha deciso di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività, gli spostamenti individuali finora adottate. L'ha annunciato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. Siamo nel piano di un'esperienza durissima e drammatica, ha detto il Ministro. Avremo tempo e modo di valutare ogni atto e conseguenza, ma a tutti è chiara una cosa. Il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio più prezioso che possa esserci, e su di esso dobbiamo investire con tutte le forze che abbiamo, ha aggiunto Speranza, secondo il quale il clima politico positivo e unitario è una precondizione essenziale per tenere unito il Paese in questo momento difficile della nostra storia. Non è il tempo delle divisioni, l'unità e la coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni, come ha detto il Presidente Mattarella, ha sottolineato il Ministro. Ed è già in funzione la speciale ambulanza dotata di barella ad alto biocontenimento per il trasporto di pazienti Covid-19 tra gli ospedali della Toscana. Il mezzo, acquisito grazie anche al contributo dei Vescovi della Toscana, è in dotazione alla Misericordia di Prato. Per saperne di più passiamo la parola a Giacomo Cocchi, dalla sede centrale dell'Arci Confraternita in Via Galcianese. Buongiorno, siamo nel garage della sede operativa della Misericordia in Via Galcianese. Da sabato è attivo un servizio nuovo, importante, per far fronte a questa emergenza legata al Covid-19. Un'ambulanza della Misericordia, l'unica sul territorio pratese, è dotata di una barella ad alto biocontenimento che serve per il trasporto dei pazienti Covid-19 da un presidio ospedaliero all'altro. Una nuova dotazione che è stata anche resa possibile grazie al contributo dei Vescovi della Toscana. Siamo con il governatore della Misericordia, Laila Minelli, e con il provveditore, Francesco Logli. Manteniamo le distanze di sicurezza, quindi io avvicinerò il microfono al governatore. Ringraziamo anche i Vescovi perché se questa dotazione è resa possibile a Prato e anche in altre confraternite della Misericordia si deve anche al loro contributo. Sì, questa ambulanza che è in dotazione qui da noi ormai da sabato è già stata utilizzata diverse volte e in questo momento è in partenza. I nostri sanitari si stanno preparando proprio perché è stata attivata in questo momento per un trasferimento ed è appunto dotata di questo supporto di biocontenimento, come si può vedere, allestito sopra la nostra barella. Questa era un'ambulanza realizzata da noi, l'ultima ambulanza che la Misericordia di Prato aveva realizzata, era stata inaugurata l'8 dicembre. Da sabato ha questo allestimento particolare. Questo allestimento si è stato reso possibile, c'è stato appunto dato dalla Federazione delle Misericordie della Toscana e realizzato con il contributo che tutti i Vescovi della Toscana hanno fatto. In questo mi sento di ringraziare quello che è il nostro Vescovo, Monsignor Nerbini, appunto anche per questa cosa. Ecco, l'ambulanza sta proprio per partire perché è arrivata in questo momento la richiesta di un trasferimento dalla Versilia all'ospedale di Cisanello. Quindi ci dobbiamo spostare qui proprio in diretta perché l'ambulanza sta per partire. Ritorniamo un attimo sul provveditore Francesco Logli. Dove va adesso l'ambulanza? L'ambulanza sta andando a Versilia per un trasferimento a Cisanello Pisa per trasportare un contagiato di Covid, ipotizzo dalla rianimazione a rianimazione. Un altro servizio che è partito da non molto è quello di un medico della Federazione che con un'auto medica della misericordia va a eseguire dei tamponi a domicilio. Sì, anche questo è un servizio che si sta facendo sul territorio, ormai è una settimana. C'è un medico e un nostro dipendente che va casa per casa per fare i tamponi e anche fare le valutazioni delle febbre e la saturazione. Io ringrazio la misericordia e vi restituisco la linea dalla sede operativa di Via Galcianese. Grazie a Giacomo Cocchi e intanto gli uffici del Comune di Prato sono al lavoro per rendere operativo il supporto alle famiglie in stato di necessità con i cosiddetti buoni spesa. Mentre Lanci Toscana, come il reso noto ieri, ha emanato alcune linee guida e un modello di modulo generico, il Comune di Prato sta lavorando a un modello specifico per il nostro territorio che verrà messo a disposizione dei cittadini sul sito del Comune nei prossimi giorni. Le domande già presentate con modello generico al protocollo non sono quindi valide, dovranno essere ripresentate. Verrà fornito anche l'elenco dei punti vendita, tra i quali si potrà scegliere dove spendere i contributi forniti. Nei prossimi giorni inoltre verrà attivata una linea telefonica dedicata e saranno fissati i criteri di accesso ai contributi che sono finalizzati all'acquisto di beni alimentari. L'erogazione dei buoni spesa dovrebbe partire la prossima settimana. Tutte le informazioni aggiornate saranno a disposizione sul sito del Comune di Prato. Inaugurati 30 posti letto di cure intermedia all'ex RSA di Narnali, che adesso si chiama Presidio Sociosanitario La Melagrana, posti letto che sono già operativi. Integreranno quelli alla Palazzina Ovest del vecchio ospedale temporaneamente dedicati a pazienti Covid. L'ex residenza per anziani di Narnali riapre ma con una nuova funzione. Inaugurati oggi 30 posti letto di cure intermedia, un progetto realizzato in partnership tra l'ASL e un'associazione temporanea di impresa formata dalle cooperative Sana e Progetto Persona. Il soggetto privato si occuperà di gestire la struttura e di predisporre il personale medico che vi opera. L'ASL fornirà consulenza e supporti quotidiani. Il primo paziente arriva oggi dalla geriatria del Santo Stefano. Si viene dall'ospedale, poi naturalmente se si migliora e come noi si pensa viene in anno dimessi, se c'è un problema si ritorna in ospedale. Quindi è un sistema all'interno dei nostri percorsi ospedalieri. Si pensa che entro 15 giorni di sistemare le persone e poter mandare a casa. Naturalmente è un tempo flessibile, si può essere meno, si può essere di più. L'ex RSA di Narnali integra le altre realtà di vite a cure intermedie sul territorio, in primissi 45 posti letto nella palazzina Ovest, al vecchio ospedale. In questo momento sono utilizzati per un progetto assistenziale per i pazienti Covid, ma finita l'emergenza Covid, la palazzina Ovest rientrerà alla sua funzione originale, cioè di essere letti di cure intermedie a livello 2 per pazienti con minore necessità assistenziali. E partirà anche il progetto che vede l'assegnazione di 12 posti letti alla medicina generale e quindi gestiranno loro direttamente, medici di medicina generale fratese, 12 posti letto delle cure intermedie a livello 2 della palazzina Ovest. L'appalto a lati composta dalle due cooperative ha una durata di 4 anni e un costo di 2 milioni di euro l'anno con la struttura regime, cure intermedie e reparti Alzheimer, questi ultimi chiusi per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. È un bel risultato, si dà un enorme polmone anche all'ospedale naturalmente per tutta una serie di attività di dimissioni e si è attrezzato una struttura che oltre alle cure intermedie, ricordo, ospiterà anche il diurno dell'Alzheimer e 9 posti di residenziale Alzheimer. Dopo aver visitato l'ospedale Santo Stefano, la delegazione di medici cinesi ieri pomeriggio è stata ricevuta in provincia dove ha portato in dono 18 mila mascherine chirurgiche. I sanitari cinesi hanno sottolineato l'importanza degli screening di massa per la lotta alla diffusione del coronavirus. La delegazione di 14 medici e infermieri cinesi in visita a Prato in questi giorni è stata ricevuta dal presidente della provincia Francesco Pugelli a Palazzo Buonamici. Il gruppo di sanitari proveniente dalla provincia cinese del Fujian ha portato la propria esperienza in merito alla gestione dell'epidemia e dopo aver fatto tappa a Creggia, Firenze, si è confrontata con i medici dell'ospedale Santo Stefano visitato nei giorni scorsi. Il capodelegazione ha consegnato a Pugelli 18 mila mascherine chirurgiche donate dalla provincia del Fujian che saranno distribuite ai comuni pratesi dall'amministrazione provinciale. E anche loro suggeriscono di avviare una nuova fase nella battaglia contro il coronavirus che sia centrata sul territorio. Oggi più che mai è necessario avviare una nuova fase ancora più aggressiva nel contrasto al coronavirus in che modo? Estendendo le campagne di prevenzione e di screening sulla popolazione generale. Al centro del dialogo con il presidente Pugelli anche le prossime misure da adottare nella seconda fase della lotta al covid-19. i medici cinesi hanno ribadito l'importanza e la necessità di affrontare il virus anche sul territorio con una strategia di tampone a tappeto secondo criteri precisi che emergono dall'analisi puntuale del dato epidemiologico. Abbiamo visto con i nostri occhi tutti gli italiani, i cittadini che abbiamo visto per la strada, quasi non c'è nessuno, le strade sono vuote, tutti stanno a casa a fare l'autocarantena e questo è un ceno molto positivo per la lotta del coronavirus. È necessario programmare quando riaprire gradualmente e in sicurezza. Il deputato pratese di Cambiamo, Giorgio Silli, interviene con alcune proposte riguardo al destino dell'economia e alla necessaria fase organizzativa che precede l'uscita dall'emergenza per il contagio da coronavirus. Ascoltiamo. Prima di tutto viene la salute ma non possiamo pensare di vedere il nostro paese, le nostre imprese, il nostro manifatturiero, soprattutto il tessile, rischiare di spengersi come una candela. Quindi penso che non si potesse fare altrimenti per come era stata gestita la questione, minimizzando fino in fondo. Siamo arrivati a un punto in cui il governo effettivamente ha dovuto chiudere le aziende ma non si può pensare di non dare un orizzonte agli imprenditori che adesso più che mai sono degli eroi. Bisogna che i titolari, gli imprenditori sappiano più o meno quando e come dovranno riaprire. Fra una settimana, due settimane, un mese. Insomma in questi giorni stanno arrivando a tutte le aziende pratesi lettere di loro clienti che dicono in maniera molto chiara che non pagheranno. Quindi non possiamo continuare a pensare di tenere chiuso all'infinito perché rischiamo davvero che molte aziende non riaprano più direttamente. Quindi dobbiamo iniziare realmente a pensare di programmare una riapertura graduale con grande attenzione, rispettosa, questo è indubbio, magari su modelli già preesistenti come il modello israeliano che a questo momento sta già sbloccando per fasce di età. Quindi prima tornano a lavorare i ventenni, i trentenni, poi i quarantenni, poi i cinquantenni e poi solamente tra qualche mese chi è più avanti con l'età. Intanto Astri, l'associazione per il tessile riciclato, si è rivolta al presidente della regione toscana e ai parlamentari pratesi chiedendo il loro supporto per agevolare la riapertura delle imprese. Le imprese del distretto non possono aspettare il momento di programmare la riapertura anche se graduale con il rispetto di alcune prescrizioni già a partire dal 6 aprile, chiede Astri. Per noi questo è un periodo strategico, abbiamo le consegne da fare, al momento in cui raccogliamo gli ordini della prossima stagione prepariamo le nuove collezioni, commenta Fabrizio Tesi, presidente di Astri. E a questo proposito stamani è partita una lettera con una serie di proposte concrete che le imprese che sono interessate a riaprire dovrebbero rispettare. Dare ossigeno alle aziende del territorio rivedendo i criteri di rotazione per l'affidamento degli appalti è la proposta avanzata dal consigliere della Lega Marco Curcio. Il consigliere propone di alzare da 100.000 a 200.000 euro il limite delle chance per permettere a quelle aziende del territorio che hanno già esaurito la turnazione triennale di poter continuare a partecipare alle gare. Mentre siamo in attesa che il governo metta mano finalmente al codice per gli appalti il comune può già prendere una decisione per ciò che è di sua competenza. Per ridare fiato alle tante aziende e imprese del nostro territorio che stanno soffrendo un momento di crisi come questo ho proposto di pensare a una modifica del regolamento per quanto riguarda i criteri stabiliti per l'affidamento dei lavori pubblici sul nostro comune. Per aiutare le imprese del nostro territorio bisogna necessariamente rivedere il meccanismo delle gare che è stato utilizzato fino ad oggi. Attualmente circa il 90% delle aziende fratesi ha terminato le chance necessarie per poter partecipare alle gare indette dal comune di Prato e molte di queste non potranno partecipare nemmeno nei prossimi anni perché così impone il criterio di rotazione previsto dal codice di appalti. Alzare la soia da 100.000 a 200.000 euro delle chance come da mia proposta permetterebbe a queste aziende di avere possibilità concrete di poter partecipare e vincere queste gare con un impatto e una ricaduta economica favorevole per il nostro territorio. E adesso le previsioni meteo come sempre a cura del Consorzio Lama. Buongiorno dal Consorzio Lama. Iniziamo subito dando uno sguardo alle ultime immagini dei satellite. Vediamo come sia presente un'area nuvolosa sulla penisola iberica associata ad un'area depressionaria che comunque tenderà a rimanere stazionaria su quest'area. Per quanto riguarda invece la parte orientale dell'Europa vediamo il fronte freddo che ci ha interessato nella giornata di ieri è sfilato ed è andato ad interessare più direttamente la Grecia. Altrove invece è presente un campo di alta pressione che tende a espandere la sua influenza anche sulla nostra penisola. Passiamo subito quindi a vedere la previsione per la giornata di oggi all'insegna di un cielo prevalentemente sereno su tutta la regione per tutta la giornata. I venti saranno ancora nord orientali generalmente moderati con ancora qualche locale rinforzo. Le temperature quest'oggi potrebbero subire un lieve aumento rispetto a ieri e si prevedono temperature massime tra i 10 e i 13 gradi. Mari generalmente poco mossi sotto costa, mossi a largo. Per quanto riguarda la previsione per domani non cambia molto dal punto di vista dello stato del cielo quindi ancora il cielo generalmente sereno. Al più poco nuvoloso soprattutto nel pomeriggio sulle province meridionali per qualche velatura. I venti saranno generalmente deboli orientali, mari poco mossi. Le temperature, questo è da segnalare, per domani mattina è previsto un ulteriore calo delle temperature quindi si prevedono delle gelate piuttosto diffuse su gran parte della regione, in particolare sulle zone di pianura e di fondo valle. Per quanto riguarda invece le temperature massime dovrebbero da domani cominciare a risalire per domani si prevedono infatti punte massime tra i 14 e i 16 gradi. Questo poi preannuncia un ulteriore aumento delle temperature massime per i giorni successivi. Con questo dall'Amma per il momento è tutto. E per questa edizione è tutto anche per noi. Vi ricordo alle 17.30 in diretta dalla Cattedrale di Santo Stefano trasmetteremo la recita del Rosario e la Messa. I riti a porte chiuse saranno celebrati da Don Carlo Geraci, parroco di Santa Maria della Pietà. Con questo è davvero tutto e il Tg torna questa sera alle 20.30 ovviamente in diretta. Buona giornata.